Ciao a tutti ragazzi di Battle Resort Gaming, oggi siamo qui su Rainbow Six insieme a Tony, a Roberts e a Joe E siamo pronti per farvi vedere i nuovi operatori che sono usciti con il stesso passaggio Allora siamo qui pronti subito per farvi vedere, vi faccio vedere un attimo al volo e poi vi faccio vedere come sono in gioco Il Bac, Baccio come lo volete chiamare, dotazione al volo proprio così, c'ha un C8SFW, non ho idea La Bic, la Biro E poi c'ha un piccolo fuciletto da cecchino che se me lo mostra, eccolo qua No è un seri automatico Si è un seri automatico però non è malvagio, non è come quello del Glaz però è abbastanza figo anche questo E vabbè poi robetta varia insomma pistola e granate e esplosivi Mentre la Frost, questa è veramente figa C'ha praticamente una 9mm C1 che a me non piace molto come carabina E il fucile a pompa super 90 che è una bestia E come abilità, ah mi sono dimenticato di dirvi le abilità dei due operatori nuovi Frost mette delle trappole per terra che insomma se qualcuno ci fa sopra il giugno Cioè se delle tagliole ci rimane bloccato Mentre il Batch c'ha un fucile a pompa sotto canna Praticamente c'ha sia il fucile a pompa che la metraglia Oppure il fucile a cecchino Nel frattempo accetto Esatto Allora hanno modificato anche un po' la grafica nel gioco Perché ho visto l'hash c'è i capelli più sciolti Più belli Hanno messo più skin delle armi Molte più skin per le armi E hanno messo pure una mappa nuova Prendi Mario 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 Ok Allora vi devo subito a mostrare Prima di tutto il Frost perché siamo in difesa Ve lo mostro col fucile a pompa Io non sono un amante del fucile a pompa in realtà Però ve lo voglio mostrare col fucile a pompa Perché fa Prendi la mitraglietta che è più figa La mitraglietta che è più figa Dai abbiamo la mitraglietta E' più a me però non lo so Le armi del fosso E' veramente brutte Non è vero La mitraglietta mi piace Ma a me non mi piacino La mitraglietta mi piace La mitraglietta mi piace La mitraglietta mi piace È strana però È strana È strana No, 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 no Quella mitraglietta si chiama SMG Gli altri esperti Aspetta di un po' Sono le mitragliette quelle vecchie Della seconda guerra mondiale pare Eh bravo Ragazzi Io facevo il balestriere Ma che faccio Io facevo il militare Tu facevi la balestriere 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 Eccola qua Tutta dorata L'ho fatta Sembro praticamente il cugino del pappone Però vabbè La cugina Fatti vedere tagliore Prima fatemi mettere questi Quello di mezzo Lasciatelo buco Che almeno dovete spara sparate No pifo Parabapalabapalabapalabapalabapalabapalabapalabapalabapalabapalababapalabababalababah la squadra d'attacco è ma qui che mi ragione poi dei coglioni ok da dove mette sotto alla botola le messa ma poi nasconde con le spine ah sì io vado in cucina giusto è più utile di quello che pensa che dici ciao doni si è proprio fucile a pompa raga o telecamera pier di l'armatura hanno spaccato figura di merda ma vaffanculo ma ha fatto il buco non c'è se ero nero nero un attimo girato ragazzoli perché stava guarda autori mi hanno ammazzato dal mio stesso buco ragazzi stai grazie sul corridoio polpo che mira di merda toc 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 si è perso santo cazzo si d'accordo cambio caricato da dove è uscita stati roba punisce e poi viene punito alberga allora tanto ormai lo sapete la prima è sempre di riscaldamento per i bambini ragazzi 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 invece faccio del bacio mi sono rimesso la maglietta me la sono rimesso perché fermo così ecco ma ero io lo ammazzeranno no hai ragione o uno fuori no come uno fuori si si ma l'ha detto pure a me però è se entrassimo dalla botola soprattutto io vado con mario dal culo dell'aereo ok tu va avanti a me tanto tanto sto sempre prima a morire è come sempre no guarda le sue giudizioni ma ma scoppia attento dice uno ecco qua dove allora ce n'è uno lì sta attento e dove a sinistra era prima vado di telecamera bella sta granata c'è piaciuta non so quanto ci conviene si ammazza così entrano prima le piedi che la faccia non vedo nessuno io non vedo l'animo chi l'ha fatto l'animo non è che sei andato là sotto io ce lo so che muoio muoio male c'è uno qui uno era lì mario dovevi tu c'è uno qui piene occhio piene ma sopra che culo piene 12 di vita fai orascio con 12 vita faccio vedere come funziona praticamente il ok peggio è in fucile a pompa che fa un danno pazzesco ma non ti buttati prepotente dov'è la volta a sinistra della porta c'è pure lo scudo proprio che sono due attenzione c'è un'altra botola di qua oh ok c'è uno con roberto no ma come ha fatto a vedermi e come facciamo qua io ce l'ho aspetta aspetta te l'apro io te l'apro io questa aspetta oh eh ma il problema è che mi ha fatto il bucolì aspetta aspetta che mi ha fatto il bucolì però fa si è finito in pompa col pompa non sapre l'hai visto Tony eh come fai se vado a mettere la eh 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 tanto giulati inga che assalto ma porca vacca oh eh roba provo a date copertura oh ma vai stai da me riuscita dal luogo di Pasqua opri eh no ce l'ho fuggito a pompa messo oh togli 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 di mare togli fammi passare ma vai riuscita a pompa messo ah ma che cazzo fai mi ha ammazzato no adesso si crepe e perdiamo te meno gli stavo a sparare gli stavo dai guarda è testa di cazzo adesso si crepe e perdiamo te meno eh sei un testa di cazzo adesso te spara appena entrato minchia bella partita no ma tocca recuperare gara questa è la vinta cazzo eh ah Roberto oh che vuoi da me io ci sono e tu ti sei fatto uccidere da un combattio colpa di Rob oh 10 telecamere ok ok posso passare? grazie un'altra i piedi Robby i piedi no era la telecamera no pure questo andò a piazzare le trappole qua il muro è stato rinforzato ed è stato più peccatore ma che quando mi avvicina Rob e spara? no no ho spaccato l'ultima telecamera comunque a me cioè queste trappole sotto le finestre possono pure funzionare ma si che funzionano eh si ma sono così nelle porte così non sono proprio tanto utili diciamo eh eh come le volevi visibili no? no le volevo un po' più oh Mario Mario ci sto ancora io dentro molto utile come ha detto Joe gli metti la la recensione sopra ecco uno è morto con la mia trappola grazie ma il frost c'era la spin mmmm c'ha il c4 sicuro mi sembra lo scudo c'ha no il frost non mi ricordo si il frost c'ha la cosa la c4 e le ha scudo Mario da te Mario da te Mario da me è tu? ma chi è? ma chi è? cule te troia ah quello è morto che è caduto ok è morto che cammina ma dove erano le danni che ha fatto fucile a poppa regà? eh l'hai visto? eh OP però ha un raggio ridotto ah no ah no perché hanno ah no ah no stavo a leggere stavo a leggere quello che mi avevano scritto di avere arrivato un freddino ma ha sparato vaffanculo ma tutti da là sono venuti si sono sono f*****ni sono f*****ni sono f*****ni parapa 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 ah no ah no però dai non ho visto il freddino non crepa è morto è morto è morto 10 volte adesso comincia il recupero regà comincia il recupero dai come shot israel e stava a sparare il comodino guarda allora adesso provo rifarvi del quello proprio in quest'altro fucile il bacco con l'altro fucile sicuro che si pronuncia back a questi back che si si chiama io prendo lascio voglio fare i capelli io lo chiamo book buca vuole il libro quello è il libro che è la prima operatrice femmina di attaccante del cap can sul tetto è capito che cosa che frost è la prima operatrice femmina attaccante e ci voleva difensiva difensiva scusa occhio mario occhio vabbè vogliamo stappo fuori tutta la luce ma che era un c4 no no così ti posso divertire pure i difensori mo con la femmina o sparano da sotto aspevato di granata granata rompi la porta secondo me ti tocca guardare le scale che c'è cap can che sarà sopra e poi scenderà allora io so un traiettore di mira ho paura a tirarla dai l'ho fatto un tempo vaffanculo a mediolato attenzione dammi concentrazione a toni che io lo sento proprio che sta per fare la tattica pro ecco la prossima non ho fatto ammazzato questo scende e morito come come morire che uno è sopra le temore di e cap can rimangono 10 secondi sbriga comunque resta che soltanto la tattica però non è riuscita l'abbiamo preso solo che botte mo preso non stai veramente stronzi quando perdiamo però questa puntata era dedicata soprattutto a far vedere i nuovi operatori che stanno per uscire a noi sono stati dati una settimana prima perché avevamo il season pass ma dalla prossima settimana troverete anche per tutti i voluti lo chissà per chi chiunque le voglia acquistare la faccia per cento mille e cinque duemila mi raccomando un saluto tutti con tenersi per tutte le nostre serie ciao 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 da roberts da comando wolf che ha messo a mettere tutto strano ciao a roberts da comando wolf che ha messo a mettere tutto strano ciao a roberts da comando wolf che ha messo a mettere tutto strano Ciao